ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale oggi ragazzi sono tornati in unissimo video infatti ormai non è più una novità il mio è in piazza l'ennesimo colpo di calciomercato è fatta per samuel ciughez e quando ragazzi vedete tutto like iscrizione e campagna fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo colpo che ora andremo a parlare di cui andremo a parlarne ora detto questo ragazzi detto questo ciughez è veramente vicinissimo al milan è veramente vicinissimo al milan secondo quanto riportato da daniele long ma è stato anche riportato da tanti altri giornalisti c'è stato un accordo c'è stato un accordo con il via real trovato ieri ma oggi le cifre sono ormai ben definite diciamo così già ieri ciughez era veramente vicinissimo oggi se non è vicinissimo è super vicino ecco operazione da 28 milioni di 28 milioni bonus compresi quindi magari sarà non lo so un 23 più 5 non ne ho idea però fatto sta che il via real ne guadagnerà un po cioè dei soldi ne guadagnerà il via real 5 anni di contratto per l'esterno ingeriano inizio settimana prossima verranno preparati documenti e programmate le visite mediche quindi in teoria settimana prossima ci dovrebbero essere le visite mediche quindi 28 milioni bonus compresi 5 anni di contratto per ciughez poi vedremo l'ingaggio vedremo tante altre cose allora che vi posso dire ciughez io l'ho visto giocare due volte l'ho visto giocare nelle due sfide contro la juventus posso assicurare che è veramente forte lui è una freccia lui è veramente una freccia ragazzi sulla fascia destra credo che il mio non abbia il miglior triente non dico non dico d'italia ma quasi perché avere un triente formato da raffaele a oliver giru che in realtà secondo me giocherà delle volte mentre altre volte giocherà a caffor e a destra su quezza il mio fra i buchi lì davanti io credo che il mio quest'anno segnerà molto di più rispetto all'anno scorso cioè il mio l'anno scorso ragazzi aveva messias barrasare meccas titolare quest'anno invece in teoria dovrebbe avere ciughez sulla destra c'è un netto miglioramento già con pulisic questo era un miglioramento ma io l'acquisto di pulisic non l'ho approvato per tanti motivi questo di ciughez ragazzi è un colpaccio è veramente un colpaccio clamoroso ripeto è una freccia sulla fascia destra è una freccia ora vi faccio vedere alcuni dati infatti guardate qui ciughezze 2346 minuti giocati 86 dribbli riusciti nella liga 6 gol senza rigore poi la mappa di colore questa è la sweat map come potete ben vedere gioca sulla fascia destra è molto offensivo ecco magari un piccolo difetto di avere leao okafor e ciughezze appunto l'unico piccolo difetto potrebbe essere quello dell'equilibrio ecco poi vediamo un po' se comunque nigeria è 1.72x70 kg è un mancino ragazzi lui è un mancino non è un destro nonostante gioca a destra lui è un mancino perché è un mancino perché lui skilla vabbè è uno che skilla ragazzi è uno che ha tanti dribbli riusciti è molto bravo a saltare gli avversari è molto rapido però lui cosa fa? lui dopo aver saltato un avversario si accentra e lui caccia con il sinistro andatevi a rivedere il gol contro il Real Madrid andatevi a rivedere il gol contro il Real Madrid ed è proprio quello di cui vi parlo ciughezze salta l'avversario comunque riesce a fare fuori l'avversario poi si accentra e calcia con il sinistro e la mette sotto all'incrocio andatevi a rivedere quel gol ragazzi e da tanto che gioca al Villareal anzi la sua carriera è iniziata praticamente al Villareal P poi si è sviluppata diciamo così sempre nel Villareal quest'anno inoltre ha fatto 6 gol e 5 assist in Liga ma se andiamo a vedere su Task for Market il rendimento per stagione dettagliato 6 gol e 5 assist in Liga 2 gol e 3 assist in Conference 4 gol e 2 assist in Coppa del Re 1 gol e 1 assist nelle qualificazioni per la Conference League questo rendimento quindi abbiamo 5, 7, 13 gol quest'anno e abbiamo 11 assist 13 gol e 11 assist per una alla destra sono troppi sono veramente tantissimi gol cioè 13 gol ragazzi per uno che gioca alla destra sono tantissimi sono veramente veramente tanti ragazzi in Liga ha anche segnato tanto perché se andiamo a vedere i dati rispetto all'anno scorso l'anno scorso hanno giocato 27 partite l'anno scorso quindi 2021-2022 3 gol e 3 assist in Liga 2 gol in Champions quindi saremo 5 gol e 3 assist e 2 gol in Coppa del Rep 7 gol e 3 assist nel 2022 nel 2022 e quest'anno 13 assist cioè 13 gol e 11 assist Ciukwezzi l'anno scorso o meglio qualche anno fa gli mancava forse il gol infatti non faceva mai troppo cioè non superava mai 6 gol a stagione quest'anno invece si è superato ne ha fatti 13 ragazzi cioè ha avuto un miglioramento clamoroso ha avuto un miglioramento clamoroso li prendo una freccia lui ha avuto una freccia io veramente a me mette i brividi pensare veramente di fermare Ciukwezzi e anche Leao allo stesso tempo mamma mia che colpaccio ragazzi mamma mia colpaccio vi faccio anche vedere un'altra statistica ragazzi guardate i dribbling lui è il quarto giocatore della Liga che ha totalizzato più i dribbling perché al primo posto Vinicius lui è al quarto posto con 88 dribbling riusciti non so perché qui ne ammetto 86 ma vabbè comunque lui è il quarto giocatore della Liga ad aver completato più dribbling quindi tantissima roba ragazzi tantissima roba qui non c'è più niente però ragazzi è veramente forte è veramente veramente forte è un giocatore senz'altro che Almina farà bene su questo sono sicuro Almina farà Vinicius non so fin da subito perché il Milan è sempre stato abituato a ad aspettare comunque i suoi giocatori però vedremo se farà bene fin da subito oppure no ora vi faccio vedere altre statistiche dunque ok dovrebbe no no 2023 2024 no aspettavo ok perfetto guardate tra l'altro tra l'altro guardate qua ha segnato ogni 391 minuti lui ha segnato ogni 391 minuti si è creato 44 chance direi non male direi non male quindi la cosa bella la cosa bella se ora vado su sofascore se ora vado su sofascore vi faccio vedere anche le statistiche più dettagliate di Samuel che ragazzi ripeto un giocatore veramente veramente forte cioè il Milan da quella parte avrà 5ze leao mamma mia mamma mia veramente a me mi mette i brividi a me mi mette i brividi guardate andiamo comunque sulla liga guardate un po' tra l'altro quest'anno ha giocato 27 a partire al primo minuto è un giocatore che tra l'altro non ha alcune infortuni è molto molto integro 60 minuti all'incirca per partita ha avuto un expected un expected oh mio dio un expected goals pari a 6 punto 54 cosa sono i xdg sono praticamente le chance che un calciatore si crea e i gol che dovrebbe fare ecco quindi ci sono diciamo le chance che il trick rei e sono i gol che dovresti segnare ecco quindi ha un xdg anche buono in relazione ai gol che ha fatto questo riguarda solo la riga ragazzi su Foscore vabbè 5 assist tra l'altro vi faccio vedere qui per quanto riguarda i passaggi nella proprio a metà campo è riuscito a fare vabbè 5 passaggi per partita giusti quindi corrispondente all'86% si è bravo anche sui passaggi deve migliorare sui cross ecco sui cross deve migliorare però ragazzi lui più che crossare lui è veramente uno che ti salta l'avversario uno che ti salta l'uomo quindi io non creo che Cicquez andrà a crossare tanto al Milan poi è molto bravo su dribbling ragazzi più del 50% riusciti 2,3 dribbling riuscita partita quasi appunto 86 si è fatto il calco 2,3 per le partite che ha totalizzato in totale 37 più o meno 86 dribbling o dico una minchiata clamorosa ora vediamo si 37 per 2,3 fa 85,1 quasi 86 ha vinto in totale 4 duella partita quindi quasi il 50% poi ecco anche duelle aerei per quanto riguarda i duelle aerei nonostante lui è solamente 1,72 perché non è di certo l'auto 5,2 è uno che ha vinto quasi un dribbling cioè ha vinto quasi un duella aerei a partita più del 40% quindi meglio rispetto a Pulisic meglio rispetto a Pulisic ragazzi quindi secondo me lui è veramente il profilo perfetto per il mio è veramente il profilo ideale ragazzi è il profilo ideale wow un rendimento incredibile ragazzi quindi secondo me lui è veramente l'acquisto perfetto come potete anche ben vedere in Liga in tutte le stagioni che ha fatto a Villareal in prima squadra in Liga ha utilizzato 21 gol 18 assist 155 partite e pensate quei 21 gol ragazzi sono stati non di certo tanti perché comunque ragazzi cioccolese fino a due anni fa non segnava tanto ragazzi non segnava tanto ma quest'anno ha fatto 13 gol e 11 assist e come possiamo ben vedere qui 21 gol 21 gol li ha totalizzato li ha totalizzati ora vado a vedere in più o meno ora vado si li ha totalizzati in più o meno 5 anni 4 anni ecco di questi 21 gol li ha fatti 13 questa stagione vuol dire che ragazzi questa stagione è migliorato tantissimo è migliorato veramente veramente tanto fatemi sapere cosa ne pensate di questo colpo il Milan senz'altro sta facendo un calciomercato per tempistiche credo che sia uno dei migliori cioè perché veramente ragazzi per tempistiche questo è uno dei migliori calciomercato è uno dei no è uno dei migliori ragazzi è una è uno dei migliori acquisti secondo me del Milan cioè CQS per me è un super colpo ragazzi voto qualità prezzo allora io non l'ho visto tanto per poterlo giudicare però voto qualità prezzo considerando che il Milan ha pagato solamente CQS circa 28 milioni appunto con i bonus quindi appunto ha pagato 28 milioni poi capiremo bene le cifre esatte io ho qualità prezzo da un 7,5 a 8 cioè mi sbilancio un po' di più ma mi convince di più rispetto a Okafor perché Okafor dal punto di vista tattico per esempio non mi faceva impazzire cioè Okafor è un colpo che per esempio ci sta ci sta perché Okafor è sicuramente un buon colpo per il Milan ma non mi convince al 101% mentre CQS mi convince molto di più quest'anno ha giocato appunto 2348 minuti quindi ha giocato molto di più rispetto all'anno scorso l'anno scorso ha invece giocato 1327 minuti quindi tanta roba ragazzi quest'anno veramente spiccato il volo ha spiccato il volo quindi fatemi sapere ripeto cosa è il pensato del calcio mercato del Milan e di questo colpo ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti